Anche quest'anno Orgolio ha centrato l'obiettivo di focalizzare l'attenzione su un prodotto di eccellenza del territorio abruzzese, l'olio. Nella seconda edizione, svoltasi il 26 novembre a Pianella, oltre a visite guidate nei frantoi, c'è stata la novità dell'arrivo di una delegazione di un'associazione veneta che è venuta a conoscere l'olio abruzzese. Grande soddisfazione per l'associazione Rinnoviamo, che anche quest'anno ha organizzato nel migliore dei modi l'evento. Quest'anno abbiamo ospiti una comunità di Veneti, che abbiamo intercettato perché hanno un'origine abruzzese e hanno nel loro statuto la finalità di divulgare le tradizioni abruzzese e molisane. E quindi crediamo di aver fatto cosa utile al nostro territorio, dando l'opportunità di conoscere il nostro prodotto a gente che comunque viene dall'esterno. La cosa bella è che hanno avuto anche l'occasione di guardare quelle che sono le realtà o le aree della zona, andando proprio a visitare i vari frantoi. Sì, noi abbiamo voluto farci conoscere per le nostre tradizioni. L'olio d'oliva rappresenta il prodotto qualitativamente più importante di questo territorio, sia da un punto di vista numerico, in quanto noi abbiamo 1.022 aziende olivico nel nostro territorio su una popolazione di 8.000 abitanti circa, sia da un punto di vista qualitativo perché abbiamo delle varietà di olive che sono proprie del nostro territorio. Non a caso facciamo parte del DOP a Putino-Pescarese. E quindi abbiamo voluto far conoscere il ciclo produttivo a questi soggetti che non conoscono il nostro territorio. Ci siamo voluti presentare così perché nella loro mente resta il ricordo che Pianella si caratterizza per l'olio d'oliva, che da un punto di vista socio-economico è la nostra salvezza e il prodotto su cui possiamo puntare al momento. Anche perché bisogna fare in questa maniera? Perché proprio coinvolgere le persone che non sono abruzzesi, perché ovvio l'abruzzese conosce il territorio, conosce l'olio di Pianella, ma il fatto che lo andranno a conoscere persone che sono fuori regione è un ottimo motivo sotto il profilo letteralmente commerciale. Sì, noi oltre a comunicare la nostra cultura, la nostra tradizione, vogliamo aprire un nuovo target, vogliamo aprire un nuovo mercato, vogliamo dare la possibilità ai nostri produttori di espandere il loro mercato. Questo è il nostro obiettivo. La soluzione Rinnoviamo dunque è sempre presente quando si tratta di far conoscere... Non è un'altra cosa che si tratta di far conoscere... Non è un'altra cosa che si tratta di far conoscere... Non è un'altra cosa che si tratta di far conoscere... Non è un'altra cosa che si tratta di far conoscere...